La Cavese all'appuntamento più importante per non allontanarsi dalla zona playoff non riesce ad andare oltre lo 0-0 contro il Torrecuso che già nei primi minuti della gara ha fatto capire le sue intenzioni. Una prestazione alquanto opaca quella degli aquilotti di Misterchietti nonostante le diverse occasioni da rete confezionate durante l'arco della gara. Come già è capitato in altre occasioni, dopo 60 secondi la squadra di casa rischia di capitolare. Aracri smarcatosi in aria tira una prima volta, De Luca in uscita ribatte alla meno peggio, la sfera ritorni ad Aracri che ribatte ancora a rete ma Manzi quasi sulla linea di porta salva. La risposta della Cavese arriva dopo 5 minuti su calcio di punizione, Cosmo Palumbo da fuori aria impegna ai due tempi l'estremo difensore ospite. Nel giro di due minuti il Torrecuso ha due facili occasioni per portarsi in vantaggio. Al nono Furno sprega sul De Luca e all'undicesimo ancora Aracri servito in aria dalla cava con un pallonetto supera il portiere ma stavolta è Parisi a compiere il miracolo. Ventunesimo azione dubbia nell'area del Torrecuso, Luciano riceve dalla destra da Cosmo Palumbo che di prima intenzione tira verso la rete. La palla però viene deviata da un braccio di un difensore, i metelliani invocano il rigore ma per l'arbitro è solo calcio d'angolo. Al quarantatresimo ancora pericoloso il Torrecuso con Pascucci che da pochi metri tira in corsa sfiorando il palo alla sinistra di De Luca. La musica nella ripresa non cambia con il Torrecuso che già nelle prime battute si rende pericoloso. Quarantasettesimo minuto, Svarione in difesa degli Aquilotti che perdono palla al limite della propria aria. Dopo un batte e ribatti la sfera arriva all'onnipresente Aracri che dal limite dell'aria tira sfiorando il palo. Al cinquantesimo Chietti inserisce De Rosa, reduce da un infortunio per Palumbo con la speranza di dare più incivisibilità alla manovra ma non è così. Sessantaduesimo Zerillo si invola in contropiede arrivando a tu per tu con De Luca che in due tempi salva la propria porta. Ancora protesta degli Aquilotti all'ottantaquattresimo. Silvestro servito da De Rosa viene esteso in aria ma l'arbitro ancora una volta dice no. Finisce in parità il derby campano che allontana anche se solo per il momento la cavese dalla zona playoff. La sosta del campionato prevista per domenica prossima sarà salutare per Mister Chietti che avrà più tempo a disposizione per preparare la difficile trasferta siciliana contro l'Agragas.